Jensen, Eliza Kassan mi ha contattato e mi ha detto di aspettarti qui. Possiamo andarcene? Sì, portaci a casa, Malik. Era ora. Grazie a tutti. Sì, portaci a casa, Malik. Sì, portaci a casa, Malik. Ho giusto bisogno di una doccia. Fai in fretta, sta venendo a parlarti. Sì, portaci a casa, Malik. Ben tornato a casa, signor Jensen. Ci sono nuovi messaggi. E non solo quelli, a quanto pare. Si metta comodo, capo. La fuori è un vero disastro, Adam. Visto i notiziari, la PICUS ha detto che stiamo sviluppando dei super soldati. Taggart ora è al centro congressi a richiedere un'indagine da parte dell'ONU. Ed è vero? Ma certo che no. Con l'eccezione del Typhoon, vedi qualche contratto della difesa? Cosa? Oh, e non dimentichiamo che la squadra di Megan è stata rapita prima di pubblicare i risultati della sua ricerca. Come lo spiega Capo? Volevo che tutti conoscessero i risultati della ricerca. Megan era un passo da una scoperta storica. Qualcosa che avrebbe catapultato la compagnia ai primi posti della Fortune 500. I suoi rapitori lo sapevano. Sapevano dove ci avrebbe portato quella ricerca. E non potevano permettere che qualcun altro detenesse quel potere. Qualcun altro? E lei si diceva il vero. Lei sa più di quello che mi ha detto. Avevo dei sospetti. Ma queste persone sono come fantasmi. Restano sempre nell'ombra. E si nascondono dietro menzogne e prestanome. E chi sono? Nome non significa nulla. Usano quello che più si addice ai loro interessi. A volte può essere massoni. A volte è gruppo Bilderberg. Infiltrati in ogni corporazione, organizzazione e iniziativa governativa che contino nella società moderna. Sta parlando degli... Illuminati. Non sto scherzando. Sono organizzati, operano sulla società e la controllano. Non scherzo. E perché gli Illuminati avrebbero rapito la squadra? Senti, te l'ho già detto. Megan aveva scoperto come fare a rendere più sicuri gli innesti per tutti. Tutti sarebbero potuti diventare come te. Come me? Sì, come sei tu. Più che umano. Dobbiamo riuscire a liberarli, Adam. Hai detto che Taggart si trova ora al centro congressi? Mi ha persino spedito un invito. Il suo assistente Sandoval c'è dentro fino al collo. Non so dove si trovi Sandoval, ma Taggart sì. Adam, devi procedere con cautela. Non sappiamo se Taggart si è coinvolto e non possiamo rischiare uno scandalo. Io mi fido di te. La città che è stata un'occhio interessante. Riattivazione del senzio. Questa compagnola... Jensen! Testa di cazzo! Mi hai fatto perdere il posto! Ehi, calmati! Che è successo? Che è successo? Hanno scoperto che ti ho lasciato entrare nell'obitorio! Ecco che è successo! Mi hanno buttato fuori! Mi dispiace, Wayne. Non te lo meritavi. Dici bene, non me lo meritavo. Questo è già il secondo casino che mi combini. Lo so. E sono intenzionato a ripagarti di tutto quello che hai dovuto passare. Le industrie Sarif hanno perso molte persone valide negli ultimi sei mesi. Uno come te potrebbe farci comodo. Ah sì? Lo dici davvero? O così per dire. Parla con l'ufficio risorse umane. Digli che ti mando io. Le corporazioni pagano meglio della polizia e non sarai bloccato dietro a una scrivania. Cazzo! Io... Ok. Ho bisogno di lavorare, ma... Spero che tu non mi stia giocando qualche tiro. Tranquillo. Quello che è successo non è colpa tua. Lasciami rimediare. Sì. È solo che... Ho bisogno di sedermi, sai? Questa è stata una settimana difficile, con tutto quello che è successo. Grazie. Davvero. Tai Yong Medica. Lo pensavo al Tai Yong, ma chissà quanto durerà. Voglio che il mondo sappia che noi, alla Tai Yong Medica, non abbiamo mai fatto ricorso e mai lo faremo a questi esperimenti. Questa compagnia è orgogliosa di garantire un ambiente sicuro e un approccio etico alla ricerca in qualsiasi momento. Invitiamo i miei sui membri dell'NU a visitare i nostri stabilimenti personalmente. L'unica cosa che troveranno... L'unica cosa che troveranno... L'unica cosa che troveranno... L'unica cosa che troveranno... Ricordatevelo... Oh, presto temerete di nuovo... Esercitazioni verso soldati potenziali. Come poter potenzare... Stai bene, tesoro? Sono un po' scossa, ma sono contenta. Come poter potenzialare... del centro congressi. Sandoval è uscito, non si trova là. Taggart saprà dove è andato. Pensi davvero che te lo dirà davanti a tutta la stampa, nel bel mezzo di una rivolta? Se glielo chiedo gentilmente... Beh, se non dovesse funzionare, ha anche un camerino nel retro. Secondo me un uomo come Taggart sa sempre dove si trovano i suoi dipendenti. Vuole acquistare qualcosa? È sempre un piacere, signore. Grazie a tutti. Sembra che al centro congressi la situazione sia sotto controllo. Sì, andate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.